Fin dal 5 marzo, il giorno dopo il voto, si era capito che qualcosa non andasse nel calcolo delle preferenze. Adesso quel sospetto ha assunto una sorta di crisma dell'ufficialità. Ne hanno preso atto nella giunta per le elezioni al Senato, confermando il dato che avevamo visto noi, recuperando così circa 3.000 voti, che erano stati erroneamente sbagliati per un errore di riportare dei dati, invertendo i voti tra Forza Italia e Fratelli d'Italia. Quindi recuperando circa 3.000 voti a favore di Forza Italia, il secondo seggio all'interno della coalizione centrodestra spetterebbe a Forza Italia e non alla Lega. L'aggiunta ha rinviato la discussione, quindi le procedure burocratiche non sono così veloci, purtroppo, come tutta la burocrazia. Arriveranno ad una conclusione. Questa conclusione, poi proposta dall'aggiunta, dovrà essere confermata o meno dall'Assemblea, quindi dal Senato. Nel suo ricorso lei non parla mai di episodio fraudolento, però perdere il seggio nel Senato per un errore di trascrizione, è un po' dura da digerire. No, soprattutto il rispetto dei 67.000 voti di preferenza e fiducia che mi sono stati dati. Non mi sono fatta abbattere, ma verificando poi man mano i verbali che arrivavano e vedendo che avevamo perfettamente ragione, ho continuato in questa strada, in questo percorso, che alla fine è già una grande cosa sentirsi dire dall'aggiunta per l'azione, hai ragione. La cosa che mi ha amareggiato di più è, con PEC e con messaggi insomma anche ufficiali, sentirsi dire abbiamo sbagliato e purtroppo è così.